Vuoi vendere casa? Senza questo documento non puoi farlo, ma ti dirò di più, hai bisogno di questo certificato già da quando decidi di mettere in vendita il tuo immobile. Infatti, per legge, già dal 2013 è obbligatorio inserirlo in tutti gli annunci di vendita. Se non lo fai, rischi multe salate che possono arrivare anche a migliaia di euro. Ma cos'è esattamente questo certificato? Attestazione di prestazione energetica conosciuto comunemente come APE che include tutte le informazioni sul consumo energetico del proprio immobile, l'esposizione dell'immobile, i materiali dei serramenti e delle pareti, la tipologia dell'impianto di riscaldamento. Sulla base di questi dati, un tecnico abilitato calcolerà l'indice di prestazione energetica che varia dall'A alla G. In pratica, un immobile in classe A consumerà meno di riscaldamento rispetto a un immobile in classe G. Ma perché è obbligatorio? Perché permette all'acquirente di conoscere il consumo energetico dell'immobile prima di acquistarlo, evitando brutte sorprese. Questo soprattutto se stai comprando una casa nuova, dove è importante avere la sicurezza di una classe energetica alta. Hai altre domande su come comprare o vendere casa? Scrivile pure nei commenti.